Gli Open Data, o dati aperti, sono dei contenuti che chiunque può utilizzare, elaborare e ridistribuire. Gli Open Data superano il principio della trasparenza amministrativa, perché oltre a consentire l'accesso, rendono possibile l'elaborazione delle informazioni per la creazione di nuova conoscenza da condividere. Gli Open Data favoriscono la partecipazione alla vita pubblica, consentono di esercitare un controllo sulle attività delle amministrazioni pubbliche e stimolano la creazione di nuove soluzioni a problemi di interesse pubblico. Gli Open Data accelerano la crescita e lo sviluppo economico del territorio. Sono una nuova materia prima attraverso cui creare nuovi servizi e inventare applicazioni innovative e utili. Gli Open Data generano dinamiche virtuose nello spazio pubblico e aiutano le amministrazioni a semplificare le procedure, migliorare la qualità dei servizi e rafforzare la fiducia dei cittadini. La Regione Lazio apre un portale unico in cui cittadini, imprese e amministratori trovano e riutilizzano i dati prodotti dalla Regione e dalle amministrazioni del territorio. Dati di investimenti per settore, servizi sanitari, progetti e iniziative finanziate da fondi europei e regionali, risorse culturali, numeri sul mondo del lavoro e del turismo e molto altro ancora. Ora puoi trovare online tutte queste informazioni su dati.lazio.it Con la trasparenza e la partecipazione puoi cambiare le cose.